Colpito e affondato, anche l'ultimo disperato tentativo di salvare il salvabile con un governo di salute pubblica è fallito nella convulsa giornata di ieri in cui si è tentato di trovare una maggioranza che approvasse il bilancio entro le 24 di oggi. Ad Avezzano dunque affonda fragorosamente l'amministrazione Gabriele De Angelis sotto il fuoco amico dei partiti di centrodestra che lo hanno salvato dall'anatra Zoppa e che qualche mese dopo lo hanno mandato a casa a due anni dalla elezione. Fallito ogni tentativo di mediazione ora arriverà il commissario prefettizio con un bilancio ancora da approvare con in ballo la visita del Presidente della Repubblica e tantissime altre questioni irrisolte. Il mercato settimanale, il T-Red, la pista ciclabile, il nuovo ospedale, il nuovo comune da ultimare, la health foundry, la salvaguardia del tribunale, il ruolo dell'interporto marsicano e tanto altro, più o meno tutto congelato e rimandato al 2020. Con l'arrivo del commissario già oggi il prefetto darà comunicazione al Ministero dello scioglimento del Consiglio e si scruterà la prima finestra utile per procedere a nuove elezioni. Tutto fa pensare che Avezzano torni al voto a primavera prossima tra aprile e maggio 2020. Questo per quanto riguarda il futuro prossimo. Il presente invece è fatto di polemiche e rese dei conti tra chi punta il dito verso l'ingerenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nelle questioni marsicane e chi torna indietro alla svolta partitica del sindaco Gabriele De Angelis che alla nascita della coalizione civica che lo ha portato alla guida di Palazzo di Città aveva lanciato l'anatema verso i partiti tradizionali di centrodestra per poi trovarsi a fare i conti proprio con loro.